E che siccome lei sta tenendo il braccio dietro, adesso il braccio dietro rimane qua fino alla fine, poi solo dopo lo potete mettere davanti. Uno, due, uno, due. Per vedere di prima, che avete gli occhi più buoni per vederlo, che qua il suo gomito sta salendo, io no, non sto facendo così, sto facendo così. E lei ha il braccio aperto, io ho il braccio chiuso. Uno, due. Questa scende, questa sale, questa buona qua, uno, le anche ruote in qua, le anche ruote in là.